Egregio signor Presidente Conte, da quando ha preso il timone di questa nostra barca, riuscendo a tirarla fuori dal fango, e nonostante l'aggravante di una pandemia pesantissima, lei ha sempre trovato il tempo di esprimere il suo pensiero e di condividere il suo operato. E' stato instancabile nell'esserci di esempio e nel farci coraggio. Ci ha indicato con capacità, fermezza ed abile diplomazia su come andare avanti. Adesso, in questo momento di difficoltà estrema e di abbietto tradimento, nei confronti suoi e anche di noi cittadini, è turno nostro essere presenti per fare coraggio a lei, ringraziarla per quello che ha fatto e che sta facendo, e dirle che negli italiani onesti ha lasciato un segno indelebile. In molti di noi ha riacceso una fiamma che era divenuta fioca, quella di un sano e composto orgoglio dell'essere italiani. Per tutto questo, indifferentemente da cosa succederà, grazie per averci ridato il giusto senso dell'identità. Grazie. 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 Grazie.